La chimica per tutti Se siete interessati giù in descrizione trovate l'altro mio video e tutti gli altri video della settimana. Ricordatevi inoltre che venerdì sul canale di MathMind ci sarà una grande live con tutti noi canali partecipanti in cui discuteremo della figura di questo scienziato, delle sue idee e di tante altre curiosità. Ora, questo video l'ho chiamato Einstein ribelle. Perché? Perché voglio dedicarlo al rapporto che ha avuto Einstein con la meccanica quantistica. Come sapete infatti Einstein in tutta la sua carriera scientifica non si è occupato soltanto di teoria della relatività ma ha spaziato in praticamente tutti i campi e è stato anche uno dei fondatori della meccanica quantistica insieme a Bohr, Schrodinger, Heisenberg, De Broglie e così via. Tuttavia, dalla metà alla fine della sua carriera Einstein ad un certo punto entra in conflitto con la meccanica quantistica ma per meglio dire entra in conflitto con alcune interpretazioni che ne vengono date in particolare con quella che si chiama interpretazione di Copenhagen che è rappresentato dal grande fisico danese Niels Bohr. Se siete interessati a tutta la storia delle teorie atomiche c'è un bellissimo video che ho registrato giusto qualche giorno fa e che trovate sempre giù in descrizione. Comunque, per iniziare ad entrarci in questo dibattito cerchiamo di capire in che modo la fisica quantistica descrive il mondo differentemente rispetto alla fisica classica per poi analizzare la critica di Einstein che è molto interessante. Allora, nel mondo classico ogni oggetto, ogni corpo può essere descritto da un insieme di variabili per esempio la velocità, la posizione. Se io di un corpo conosco esattamente queste variabili in un certo momento posso prevedere il suo comportamento in tutti gli istanti successivi. Se io prendo una pallina da golf che è stata appena colpita dal giocatore e di questa pallina da golf ne conosco esattamente la posizione, la velocità, la direzione della velocità e il verso della velocità, se conosco tutte le condizioni atmosferiche, se insomma conosco tutte le variabili che ci sono posso prevederne esattamente a traiettori, posso sapere se andrà in buca, se finirà un millimetro dopo la buca, posso sapere tutto quello che mi pare piace. In pratica il mondo classico è come quello di un biliardo in cui un giocatore esperto può prevedere esattamente il risultato delle sue azioni, cioè una volta colpita la palla da biliardo può sapere esattamente dove andrà a finire. Nel mondo quantistico tutto questo non è più vero. Le particelle e gli oggetti quantistici, quindi gli oggetti microscopici, non sono più descritti completamente da velocità, posizione, momento e così via, ma necessitano di una funzione d'onda. La funzione d'onda è un'equazione matematica che lega la posizione e il tempo con la probabilità di trovare la particella in quel posto, in quel punto. In realtà a darci la probabilità non è direttamente la funzione d'onda, ma il suo quadrato. In pratica, se io prendo la funzione d'onda di un elettrone e la calcolo in un certo punto e in un certo tempo, elevando al quadrato il numero che ottengo, ricavo la probabilità di trovare l'elettrone in quel punto. Tuttavia, quello che regala è appunto una probabilità, non una certezza. Io non posso essere certo che davvero l'elettrone o il fotone o qualsiasi altra particella si trovi dove dico io. Posso solo sapere se è probabile al 50%, al 90%, al 60%, ma mai al 100%. Per ottenere la probabilità del 100% devo fare una misura. Nel momento in cui misuro la posizione della particella, allora sono sicuro che la particella in quel momento si trova lì. Però, mentre nella fisica classica, da una misura, posso poi prevedere il comportamento futuro della particella o dell'oggetto classico, nella meccanica anatistica, una volta fatta la misura, io ho soltanto informazioni su quel singolo momento, su quella singola misura. Non posso fare alcuna previsione, né sul futuro, né sul passato. Vi faccio un esempio. Immaginiamo che io stanotte prenda un telescopio, lo punti verso Giove e mi vada a scrivere le coordinate del pianeta. A questo punto, utilizzando le leggi di Newton, posso calcolare dove sarà Giove domani, dove sarà dopodomani, dove sarà tra 100 anni. E allo stesso tempo posso calcolare dove era Giove ieri e dove era mille anni fa. Prendete appunto il caso dei pianeti. È già da tanto tempo che lo sappiamo fare, che sappiamo prevedere dove saranno e dove erano in passato. Se io questa stessa cosa, invece, la faccio con un elettrone, non ottengo nulla. Cioè, se io misuro in questo momento la posizione di un elettrone, non avrò la pade di idea né di dove era prima, né di dove sarà dopo. Il mondo della meccanica anatistica è quindi un mondo sostanzialmente casuale. E' qui che entra in gioco Einstein. E' qui che Einstein si arrabbia, in un certo senso, con Bohr e con gli altri fautori dell'interpretazione di Copenaghen. Innanzitutto, da questo parlando di interpretazione di Copenaghen, ma che cos'è? Finora vi ho parlato della funzione d'onda. E vi do questa interpretazione probabilistica. Cioè, vi ho detto che la funzione d'onda ci dice, anzi, il quadrato della funzione d'onda ci dice qual è la probabilità di trovare l'elettrone in un certo punto. Ma qual è il significato vero e proprio della funzione d'onda? Soprattutto questa casualità è insita nella materia. Cioè, noi non possiamo conoscere tutte queste proprietà dell'elettrone perché effettivamente è impossibile conoscerle o perché non ne siamo ancora in grado. E anche se è impossibile per noi conoscerle, è semplicemente impossibile conoscerle ma l'elettrone comunque segue una traiettoria definita, soltanto noi non la conosciamo, oppure magari semplicemente non segue nessuna traiettoria definita. Quindi è una questione sostanziale, è una questione di conoscenza. Ci sono varie interpretazioni dell'economia quantistica che cercano di, in un certo senso, rispondere a questi interrogativi. L'interpretazione più famosa, quella più accettata dalla maggior parte, dalla maggioranza di fisici, appunto, è l'interpretazione di Copenhagen che è supportata da Niels Bohr. Nell'interpretazione di Copenhagen, appunto, il mondo è probabilistico, è casuale, non perché non siamo in grado non di calcolarlo, ma perché è così, è la sua intima natura. Il mondo è fatto così, è a caso. Questa idea di questo mondo non più deterministico è ciò che combatte Einstein. La polemica di Einstein contro Bohr, infatti, non è legata alla coerenza della meccanica quantistica, ma alla sua completezza. Per Einstein la meccanica quantistica è una teoria perfettamente coerente, permette di fare spiegazione, permette di fare previsioni, permette di costruire dispositivi, permette di fare un sacco di cose. E questo è vero, Einstein lo riconosce, non può negare i dati sperimentali, né nega che la teoria quantistica è una teoria che funziona. Quello che nega Einstein è che la meccanica quantistica è una teoria completa, cioè nega che è la teoria ultima. Per Einstein la meccanica quantistica è una approssimazione di una teoria che non conosciamo. Gli eventi che noi vediamo casuali, non sono casuali perché lo sono davvero, ma sono casuali perché noi non conosciamo le leggi che le governano. Prendiamo un esempio stupido. Immaginiamo di avere una moneta e di tirarla in aria. La tiriamo, la prendiamo e ci interroghiamo, è testa o è croce? Scommettiamo. Io scommetto e dicevo che è testa, voi scommettete e dicevo che è croce. Nessuno si è risultato finché non apro la mano e non vi dico ok abbiamo scoperto se è testa o se è croce. Finché non facciamo la misura, la probabilità che sia testa o se è croce è del 50-50. Tuttavia in realtà questa probabilità non è legata a una vera casualità, ma è legata semplicemente al fatto che noi non conosciamo esattamente la forza a cui l'ho tirata, non conosciamo esattamente il punto in cui è applicata la forza, non conosciamo le condizioni dell'aria in quel momento. Ma in teoria se io tirassi la moneta in aria conoscendo esattamente la forza, conoscendo esattamente la velocità, conoscendo esattamente tutti i dati, potrei calcolare dove va a finire la moneta e se esce testa o se esce croce. La casualità del lancio della moneta quindi non è una vera casualità, non è un lancio veramente casuale, ma è semplicemente legato al fatto che ci sono tante variabili in gioco e che noi le conosciamo tutte. Ma in teoria se le conoscessimo potremmo calcolare il risultato finale della nostra chiusura. Ora, nella meccanica quantistica, ci troviamo davvero in questa situazione? Cioè noi magari potremmo dire è vero che io non posso fare calcoli sulla posizione dell'elettrone dopo la misura, è vero che non posso nemmeno sapere a priori con certezza quale sarà il risultato della misura, ma magari tutto questo è semplicemente perché non sono ancora abbastanza bravo, non conosco ancora abbastanza dati da poterlo fare. Tra mille anni magari saremo in grado di calcolare esattamente la posizione di un elettrone misurato oggi, tra mille anni. Questa è l'idea di Einstein. Per Einstein la meccanica quantistica non è completa, cioè gli mancano delle informazioni. Una volta che avremo queste informazioni anche la casualità della meccanica quantistica sparirà. Nell'interpretazione di Copenhagen, cioè l'interpretazione di Bohr, invece, non è così. La meccanica quantistica è casuale, punto. È un caso, non perché non lo conosciamo noi, ma perché è effettivamente così. Ma Einstein non è solo in questa sua lotta epistemologica contro la meccanica quantistica, contro l'interpretazione di Copenhagen della meccanica quantistica, perché infatti è anzi accompagnato da altri signori abbastanza importanti come Erwin Schrödinger, un altro dei padri della meccanica quantistica. È stato proprio Erwin Schrödinger il primo a parlare della funzione d'onda, il primo a scrivere una funzione d'onda e così via. Quindi non stiamo proprio parlando di fisici da quattro soldi o da filosofi che si fanno pippe mentali. Parliamo proprio delle persone che hanno creato la meccanica quantistica. Prendiamo ad esempio il famoso paradosso del gatto di Schrödinger. Probabilmente lo conoscete tutti, però cerco di farvi un po' un riassunto. Prendiamo un gatto, mettiamolo dentro una scatola di metallo completamente chiusa e sigillata. In questa scatola, oltre al gatto, c'è anche un altro dispositivo, ovviamente protetto dall'azione del gatto. Questo dispositivo è costituito da una microscopica quantità di un elemento radiattivo e da una fialetta di veleno. La quantità di materiale radioattivo che ho messo nella scatola, però, è tale che la probabilità di avere un decadimento, cioè la probabilità che il materiale effettivamente emetta una radiazione, è soltanto del 50%, ad esempio nel periodo di un'ora. Cioè, se io tengo la scatola chiusa per un'ora, ho il 50% di probabilità che venga emessa radiazione e il 50% che non venga emessa. Ora, la mia scatoletta col veleno è fatta in modo che se il contatore Geiger che rileva le radiazioni rileva effettivamente un decadimento, la fiala si apre e quindi il gatto muore. Se invece il contatore Geiger non rileva nulla, la fiala rimane chiusa e il gatto vive. In tutto il mio sistema, quindi, cosa ho? Ho il 50% di probabilità che venga emessa una radiazione e quindi, se ho effettivamente un decadimento, il gatto muore. Se non ce l'ho, il gatto vive. Quindi, se io ora prendo il mio dispositivo, ci metto davvero il gatto, lo chiudo e lo osservo per un'ora, il gatto, poco prima che vado ad aprire la scatola, è effettivamente in una sovrapposizione di due stati diversi. Cioè, contemporaneamente, sia vivo che morto. Perché? Perché nella meccanica quantistica lo stato del sistema è una sovrapposizione dello stato gatto vivo e dello stato gatto morto. Perché? Perché è anche una sovrapposizione dello stato microscopico di decadimento, non decadimento. Dove sta quindi il paradosso? Sta nel fatto che però, una volta che io apro la scatola e tiro fuori il gatto, per il gatto, ovviamente, tutto questo non è vero. nel senso che il gatto si ricorderà di essere vivo. Ovvero, se è morto è morto. Ma se il gatto è ancora vivo, si ricorderà di essere stato vivo per tutto il tempo. Non è che si ricorderà di essere stato in uno stato di intermedio di vita o di morte. Questo è un paradosso. In realtà, poi, questo paradosso è stato superato, quindi poi è stato spiegato effettivamente. Ma è appunto l'esempio di esperimento mentale che piaceva tanto ad Einstein. Einstein lo chiamava Gen Duncan Experiment, esperimento mentale. Un altro paradosso simile a questo di Schrodinger è il paradosso di Einstein-Podolsky-Rosen, paradosso EPR. In questo esperimento mentale di Einstein, quello che facciamo è prendere una sorgente sempre radioattiva. Immaginiamo che questa sorgente possa emettere due elettroni allo stesso tempo. E anche questi elettroni si trovano in uno stato che si chiama singoletto di spin, il che vuole dire che in pratica hanno gli spin antiparalleli. Se non sapete cos'è lo spin, vi invito ovviamente di nuovo a guardare il video sulle teorie atomiche. Per ora, comunque, li invitiamoci a sapere che lo spin è una proprietà delle particelle e che questo spin può essere più un mezzo o meno un mezzo, cioè su o giù. Uno stato di singoletto è uno stato in cui due elettroni assieme hanno spin antiparallelo, cioè se uno è su, l'altro è giù, se uno è giù, l'altro è su. Cioè, i due stati di spin sono accoppiati. Ora, una volta che gli elettroni vengono messi, noi non abbiamo alcuna idea di qual è lo stato di spin di ognuno. C'è il 50% di possibilità che l'elettrono di sinistra sia su e quello di destra sia giù e il 50% di possibilità che sia il contrario, cioè uno giù e l'altro su. Questo è proprio un fenomeno fisico, non è soltanto, come abbiamo detto, l'interpretazione di Copenhagen. Questa nostra mancanza di conoscenza non è semplicemente una questione che non lo conosciamo noi, è proprio la realtà fisica. Nella realtà fisica abbiamo uno stato che si chiama entangled, cioè l'elettrone di sinistra è in una sovrapposizione di su e giù, lo stato di destra è in una sovrapposizione di su e di giù. Ovviamente, quando faremo la misura, misureremo o su o giù, ma finché non facciamo la misura, ogni elettrone è in uno stato intermedio, cioè è una sovrapposizione di su e giù. Ora, immaginiamo quindi che queste due particelle si allontanino dalla forgente fino ad una distanza molto 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 grande, enorme. Mettiamo ora quindi che ci siano due osservatori, una a sinistra, chiamiamola Martina, e una a destra, chiamiamolo Giuseppe. Ora, se Martina misura lo spin dell'elettrone che sta andando nella sua direzione e misura, ad esempio, uno spin su, allora immediatamente sarà noto non soltanto lo spin della prima particella, ma anche quello della seconda. Perché se due particelle erano entangled, cioè erano intrecciate, cioè avevano spin opposto ed erano in un unico stato, quindi noi siamo sicuri che per tutto il tempo hanno sempre spin opposto, allora nel momento in cui misuro lo spin a sinistra, allora ho misurato in un certo senso anche lo spin a destra. Cioè sono riuscito a misurare lo spin dell'altro elettrone senza avere alcuna relazione con lui, senza avere alcuna interazione con quell'altro elettrone. E non solo, magari questa misura l'ho fatto con un elettrone che si trova a una distanza enorme. E la conoscenza che ho avuto l'ho avuta istantaneamente. Di conseguenza in questa maniera l'ho avuta più velocemente la velocità della luce. Cioè in questo modo ho contraddetto la teoria della relatività ristretta, che invece era ormai una teoria confermata e abbastanza completa. Quindi questo è il paradosso di Einstein. Io ho il 50% di possibilità di scoprire che lo spin dell'elettrone a sinistra è su o giù, ma appena faccio la misura so immediatamente non soltanto lo spin di questo ma anche lo spin dell'altro. cioè sono usciti a trasmettere informazioni più velocemente della luce. Al contrario del paradosso di Schrödinger che poi è stato risolto abbastanza facilmente, il paradosso di Einstein Polosky-Rosen ha richiesto un sacco di lavoro e ha richiesto soprattutto una completa revisione del nostro modo di pensare alla meccanica quantistica e allo stesso processo di misura. Poi ora il paradosso li può considerare praticamente risolto anche se ancora ci si dibatte un sacco. In particolare ha portato a una famosa equazione che è l'equazione di Bell del 1264 che ha definitivamente messo in luce il fatto che la meccanica quantistica non contiene variabili nascoste e che quindi dovrebbe essere considerata come una teoria completa. Tutto questo quindi per dire cosa? Per farvi vedere come la critica che Einstein faceva alla meccanica quantistica non era la critica di un vecchio scienziato reazionario che non voleva accettare la nuova teoria che non voleva abbandonare il suo angolo felice la sua comodità. Al contrario invece l'opposizione di Einstein era basata su effettivamente dei ragionamenti molto seri su dei dibatti filosofici che ancora oggi ci sono. Tant'è che in realtà l'interpretazione di Copenaghen che appunto fino a qualche anno fa era quella predominante in assoluto in tutta la comunità fisica oggi sta venendo piano a piano affiancata anche da altri tipi di interpretazione. ora in questo caso io vi voglio soltanto accennare a una di queste interpretazioni molto interessante che è l'interpretazione di Hugh Everett quella a molti mondi. Ora so bene che alcuni di questi discorsi forse vi sono sembrati controintuitivi spero che comprendete anche che io non sono un fisico e quindi siate pazienti se magari mi sono espresso male in qualche momento ovviamente se avete delle critiche se pensate che qualcosa che abbia detto non è stato sufficientemente preciso commentate in caso mai aggiungo qualche annotazione e niente io vi do appuntamento quindi a venerdì alle 21.30 sul canale di MattMind per la live dedicata ad Einstein vi ringrazio per avermi guardato e alla prossima ciao ciao